Damoletti, in Europa, che immagine c'è di questo momento italiano, soprattutto di Renzi? Fammi fare intanto una battuta dopo un'intervista molto densa e molto bella con Renzi. Questa crisi politica italiana è una partita tutta maschile. Ci sono solo uomini protagonisti. E dall'osservatorio europeo posso dirti che siccome i paesi che vanno meglio, che gestiscono meglio la crisi, che hanno gestito meglio la pandemia, sono guidati da donne, ma insomma è abbastanza triste. Detto questo rispondo alla tua domanda. L'Italia non è l'unico paese in crisi in Europa, pensiamo all'Olanda di Rutte, però l'Italia è il paese più colpito dalla crisi pandemica ed è il paese anche che riceverà la quota maggiore di recovery fund. Questo perché è stato fatto un grande lavoro in Europa, Gualtieri, Sassoli, eccetera, è benissimo. Allora l'Europa ci guarda perché Massimo? Perché si aspetta da questo paese un piano, un recovery plan strategico che detti gli obiettivi per i prossimi vent'anni. Ma se non c'era Renzi, recovery plan, era un disastro, bisogna anche avere coraggio. Io che sono stato mandato fuori dalla RAI da un certo tipo di potere, io non ho un rapporto con Renzi, però rispetto queste cose, bisogna vederle. C'è una riga nel nuovo, c'è una riga sul 5G strategico e tutti i signori sappiate che nel recovery c'è una riga dedicata al 5G che è la strategia del futuro. Se noi oggi abbiamo un recovery plan migliore rispetto alla bozza lo dobbiamo, le battaglie anche di Italia Viva, del PD e di chi ci ha messo del suo. Però fammi dire anche questo, che è triste vedere l'uscita di Renzi dal governo perché rappresenta una componente riformista necessaria. Quindi io mi auguro ancora che Conte faccia il suo mestiere, quello cioè di ricucire con questa componente politica che secondo me è utile. Detto questo bisogna fare presto e bene perché abbiamo delle sfide enormi davanti, perché l'Europa si aspetta delle risposte e un cronoprogramma anche su entro quando quelle risorse le vogliamo spendere. Anche chi lo fa, Crosetto del Nuova Palura, saluto solo gli altri.